E adesso andiamo da questo piccolino strafed combos, cosa vuoi fare, cosa vuoi fare, cosa vuoi fare, l'abbiamo beccato 26 HP, c'è 26 HP, prendiamolo ancora, no, prendiamolo ancora, l'abbiamo beccato e continuiamo così, uh beccato, iiii Ciao amici iscrivetevi al canale premendo il tasto rosso iscriviti e attivate la campanellina per non perdervi nessun mio fantastico video Ciao amici e benvenuti in questo nuovo fantastico video di minecraft, guardate dove ci troviamo, in una UHC, avete sentito bene una UHC E' tanto tempo che non gioco in questa bellissima modalità e siamo ritornati, infatti siamo qui per fare una nuova UHC, una prima UHC, voglio vedere se va bene perché E' tanto tempo che non faccio una UHC, tanto tempo che non faccio PvP, tanto tempo che non uccido le altre persone quindi non so se sono ancora bravo Quindi dovremmo cercare di impegnarci tantissimo, voi sapete che le UHC di iPixel sono una cosa impressionante, sono una cosa difficilissima da giocare E infatti cercheremo di impegnarci, ora sapete che dobbiamo farci tipo tutto quel che ci serve per combattere, dobbiamo farci tipo un armatore in ferro Dobbiamo farci tanto tanta tanta legna, dobbiamo cercare di raccogliere gli utensili perché noi non siamo spawnati con il kit degli utensili Ma siamo spawnati con un kit che ci dà direttamente lo stato necessario per farci un arco e le frecce E questo kit è fantastico perché la maggior parte della gente nel UHC di solito combatte con la spada, se tu combatti con l'arco distruggi tutti Se trovi uno che non ha un arco lo distruggi in due secondi, una cosa impressionante Adesso cerchiamo qua di farci un bel piccolo di legno e vediamo un po' di prenderci un bel po' di pietra Così poi possiamo farci tutte le utensili in pietra e poi cercare di prendere il ferro, farci l'armatura e poi andare a cercare le prime persone da uccidere in questa fantastica UHC Scrivetevi nei commenti se siete contenti del ritorno anche delle UHC perché wow queste UHC le ho fatte per anni e vi sono sempre 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 piaciute Vi sono sempre piaciute veramente tantissimo e anche a me mi sono sempre piaciute, mi hanno sempre divertito sempre tutte Mi hanno sempre divertito tutte le uccisioni che facevo nei video, erano una cosa veramente bellissima Adesso vi metto a piangere, non ce la faccio, ho troppi ricordi Fantastico, adesso qua ci prenderemo tipo tantissima legna perché ci dobbiamo ricordare che ci sono anche le p-box Le p-box sono tipo delle pandora box che si fanno con le teste delle persone che uccidi e poi aprirle e trovarci dentro qualche loot interessante Da una sharpness 3 a tipo 4 mele dorate eccetera 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 Noi adesso cerchiamo di muoverci perché dobbiamo essere veloci, dobbiamo farci la legna, dobbiamo farci... Allora, dobbiamo avere lo giusto 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 giusto, dobbiamo farci un piccone di pietra Puoi andare subito subito a prendere la roba che ci serve Dobbiamo muoverci perché qua le persone sono fortissime e io voglio almeno almeno fare qualche bella uccisione Prima di morire, prima di incontrare qualcuno con tipo una spada in diamante che mi uccida Voglio farmi qualche bella uccisione Adesso ci cerchiamo una bella caverna, ci facciamo tantissimo ferro E poi finalmente ci facciamo una bella full iron Nel frattempo che sono già qui mi faccio lo stato necessario per farmi le frecce E quindi ci prendiamo tutta questa bella gravel che ci può servire veramente tantissimo Una cosa comodissima che hanno aggiunto, che sinceramente avrei voluto che avessero aggiunto tipo anni fa È questa cosa qui Adesso non bisogna più impararsi, studiarsi a memoria tutti i crafting strani delle WKC Pixel Basta semplicemente cliccare la chat che ti dice già che hai un crafting speciale che puoi craftare Che figata È una figata pazzesca questa cosa Questa cosa sarebbe stata veramente comodissima anni fa Avrei tipo registrato decisamente più video giocando in questo modo Adesso è facilissimo perché appena il gioco sa che nell'inventario hai degli oggetti che servono per craftare un oggetto specifico Lui te lo dice in chat e poi ti fa anche craftare in automatico l'oggetto senza la crafting table Mamma mia questa è una cosa veramente comodissima Quindi faremo le cose veramente velocissimo Noi cercheremo in questo episodio di combattere con l'arco Voglio cercare di farmi qualche bella uccisione con l'arco perché è tanto tempo che non lo uso E poi perché qui è più intelligente è meglio cercare di utilizzare l'arco decisamente Facciamo qua le sticks adesso riclicchiamo qua e ci facciamo già tutte le frecce Guardate che figata guardate che figata ci siamo già fatti tipo 60 frecci Abbiamo già tipo 60 frecci le dividiamo così se tipo raccogliamo altre frecce per terra E abbiamo l'inventario pieno ce le raccogli subito E adesso andiamo subito a farci il coso il ferro perché abbiamo l'arco abbiamo le frecce Ci serve semplicemente un'armatura in ferro e una spada in ferro Guardate che bello c'è un burrone veramente profondissimo ma in questo fantastico burrone c'è tantissimo ferro Ci buttiamo siiii fantastico se siete felici del ritorno delle wakaci vorreste vedere altri video Ogni tanto dove faccio delle belle partite raggiungiamo i 4000 mi piace per un prossimo episodio Così vi fate capire che queste wakaci vi piacciono ancora sarà una battaglia intensa Spero che in questa partita ci siano delle battaglie intense voglio farmi delle belle battaglie con la spada con l'arco Voglio fare delle belle partite raccogliamoci velocemente tutto il ferro perché dobbiamo cercare di farci l'armatura in ferro Ma noi forse possiamo craftarci anche tipo un piccone in ferro speciale che c'ha efficiency 1 Dobbiamo semplicemente trovare del carbone prenderlo e forse già possiamo craftarci questo piccone speciale Aspettate abbiamo il crafting dovrebbe avvisarci in chat che possiamo craftarlo Eccolo qui siiii E con no scusate non è questo non è questo sinceramente pensavo che potessi craftarlo Invece non me lo fa vedere forse ho bisogno di qualcos'altro Ho bisogno di qualcos'altro per craftarmi questo Eccolo qui siiii Ecco qua con questo piccone speciale possiamo prenderci la roba più velocemente E possiamo farci il ferro molto più velocemente Adesso è il bello che possiamo farci il ferro con il carbone senza aprire la crafting table Senza rischiare che qualcuno ci rubi il ferro Basta semplicemente cliccare sulla chat e ce lo possiamo craftare subito L'iron pack fantastico Adesso dobbiamo semplicemente trovare tantissimo altro ferro E poi finalmente siamo pronti per fare pvp E cominciare a cercare le prede Io sono veramente spaventato Perché è tipo quasi un anno che non gioca un OHC Le ultime battle royale che ho giocato sono state quelle di fortnite E visto che questa è una battle royale Dobbiamo stare molto molto attenti Finalmente ci siamo fatti full iron come potete vedere E adesso siamo pronti per andare a combattere Mancano 3 minuti ancora Abbiamo tipo fatto la spada in ferro Abbiamo fatto l'armatura in ferro C'è rimasto del ferro in più per farci l'anvil Mi sono ricordato che abbiamo anche enchant speciali Per poter creare altre cose Il problema che io mi sono dimenticato Tipo le altre cose che ci servono Forse mi ricordo come si fa la sharpness Dobbiamo creare due spade sharpness Avere tipo della carta E possiamo fare delle sharpness Solo che tipo ci serve l'anvil Quindi facciamo una cosa Adesso usciamo da questa foresta che non mi piace E vediamo un po' che cosa riusciamo a fare Il problema è che non mi ricordo questi crafting speciali Eccoci qua Abbiamo la carta E adesso secondo me possiamo craftare qualcosa Non lo so Oh giusto giusto Serve la gravel Giusto no La gravel ce l'ho Aspettate ce l'ho alla flinte Ce l'ho alla flinte Che cos'è che serve Aspettate come è possibile che non posso craftare Perché non mi fa vedere la chat che posso craftare Eccolo Eccolo infatti Perché non me lo fa vedere Mi sta facendo perdere tempo Era meglio che me lo faceva Me lo dava la chat sta cosa Perché così rischio di essere ucciso Ecco qua avete visto Abbiamo fatto tantissimi protection Tantissimi sharpness Semplicemente con la canna da zucchero Che cos'è questa stregoneria Questi qua sono i crafting speciali Delle UHC dei pixel Fantastico Ora ci serve semplicemente un anvil E noi l'anvil non ce l'abbiamo Mi ricordo che potevamo tipo farci un anvil speciale Che richiedeva meno cose Solo che adesso non mi ricordo come si fa neanche quella Quindi nel frattempo Cominciamo a cuocere tutto il ferro che abbiamo E nel frattempo stiamo attenti Perché se tipo non ci guardiamo intorno Arriva qualcuno alle spalle E ci uccide subito 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 Oddio cos'è quello Cos'è Oddio c'è qualcuno Non ci posso credere Smoke Smokeweed Cos'è smokeweed Che chi è smokeweed Sta avvicinando con la spada Lo sapevo che voleva avvicinarsi con la spada C'ha 13 hp Non ci posso credere Dobbiamo andare adesso Dobbiamo andare adesso Perché se tipo non lo uccidiamo È un casino Wow Non ci posso credere Ma è quasi ammazzato Che cacchio Ho sbagliato Ho sbagliato tutto Ho sbagliato tutto Ho sbagliato tutto Ho sbagliato tutto E me la uso per me Adesso Siamo messi male No Diciamo di no Abbiamo un po' di cose interessanti Ora cerchiamo qua Di liberarci Tutta la roba che non ci serve Perché lui Aveva un po' di sporcizia Nell'inventario Abbiamo la sua testa Possiamo farci Una crafting Credo Eh scusate Dov'è la crafting Eccola qua Uh Ci aveva anche dei lingotti Perfetto Perfetto Ci facciamo subito Una bella pbox E la apriamo Ok Uh 16 di esperienza Che schifo Non è possibile Abbiamo trovato Solo 16 di esperienza Che schifo Mi aspettavo di trovare Qualcosa di meglio Eh cacchio Abbiamo pochissima vita E abbiamo Uh Abbiamo due diamanti Allora Cerchiamo di stare calmi Che qui Ci ammazzano subito Cos'è che possiamo craftare Possiamo craftare l'ossidiana Solo che l'ossidiana Non ci serve a niente Perché tipo Siamo messi veramente malissimo Dobbiamo cercare di uccidere Qualcun altro Per recuperare la vita Sapete Non potete recuperare la vita Se non Con Le mele d'oro O con le teste Che si possono mangiare Forse era meglio Mangiarsi la testa Sì di solito È meglio mangiarsi la testa Che farsi la pbox Però io ho sperato Di trovare qualcosa di interessante Nella pbox Ma niente Non abbiamo avuto fortuna Allora Adesso qua ci prendiamo Le cose che ci servono E ce ne andiamo subito Qua via Perché questo è un brutto posto E mi potrebbero uccidere Subito 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 Abbiamo fatto l'anvil Sì Abbiamo fatto l'anvil Allora Già con questa Forse riusciamo a fare qualcosa Adesso ci enchantiamo Grazie a tutti i libri Che abbiamo fatto Abbiamo tanta esperienza Forse quelle bottigliette di esperienza Mi salvano la vita E adesso siamo molto più resistenti Sì Siamo più resistenti E possiamo farci anche Una spada in diamante Sharpness 2 Cosa ne pensate? Pensate che sia una buona spada? Sì La facciamo subito Una spada Sharpness 2 Sì Mamma mia Ci siamo fatti una bellissima spada Sharpness 2 Guardate quanto è bella luccicante E nel frattempo Qua ci prendiamo questo oro E voilà Avete visto? Ci siamo fatti anche Una cosa Cosa È vero che posso fare Non ci credo Non ci credo Posso fare queste cose Posso farle light Apple Quindi adesso posso farmi Già tipo un'altra Aspettate Mangio questa mela d'oro Per sicurezza Perché potrebbe arrivare qualcuno Ma adesso posso prendermi Un'altra mela E posso farmi Un'altra mela d'oro Sì Andiamo subito a farla Dobbiamo semplicemente Prenderla Tipo Le mele dagli alberi Solo che sarà impossibile Trovarne una Buttiamo giù un albero bianco Che di solito Questi alberi bianchi Danno tante tante mele E stiamo attenti Che intorno ci potrebbe essere Qualcuno Che Sarebbe pronto A venire ad uccidermi Comunque al centro Si stanno ammazzando in tanti E forse E meglio che andiamo al centro Perché se stiamo così tanto Fino alla fine Alla fine Troveremo sicuramente Solo un full diamond E sinceramente Non voglio combattere Contro un full diamond Vorrei combattere Contro persone Che sono Alla mia altezza Se vi sta piacendo Se vi sta piacendo questo video Fantastico Raggiungiamo Il 4.000 mi piace Per una prossima HC Champions Che sono molto difficili Da registrare E iscrivetevi al canale Premendo il tasto Lo so iscriviti Così non vi perdete Questi bellissimi video Allora Continuiamo qua con le mele Perché finché non troviamo Una mela Non possiamo muoverci Voglio almeno arrivare Al massimo della vita Nel prossimo combattimento Freehead Uh C'è qualcuno che sta dicendo Che c'è tipo una testa Facile Facile A queste coordinate Noi non siamo neanche tanto lontani Però adesso Sono più concentrato A prendermi Questa mela Se riusciamo a trovarla Ecco un'altra fantastica mela Che ce la craftiamo subito Oh Adesso sto bene Ora sto molto 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 bene Qua mettiamo così L'inventario E adesso siamo pronti Siamo pronti Adesso con la prossima mela d'oro Ritorniamo al massimo della vita Quasi E avremo anche delle mele d'oro Chi è questo? Ma chi è questo piccolino? Ma chi è? Oh mio dio È quello di prima Quello che ha scritto La testa easy Qualche ha scritto La testa facile Grazie mille amico mio Non ci credo Esisteva veramente questo ragazzo Ma io pensavo fosse una finta No vabbè P box P box Eccola Uh Projectile protection Ma che schifo No veramente Projectile protection Mi stai prendendo in giro Abbiamo trovato Projectile protection Che cosa facciamo? Oddio Che cos'è? Oh Cosa sta succedendo? Uh C'è il dead match C'è il dead match Fra un po' c'è il dead match Comunque abbiamo trovato projectile Va bene va bene va bene La mettiamo su La nostra bella chestplate Forse così le frecce Non ci faranno danno No Che cosa abbiamo fatto? Perché non ha funzionato? Oddio Ho fatto qualcosa di stupido? Eh Non lo so Ho fatto qualcosa di stupido Secondo me Allora Sono distratto Quindi non so che stupidato ho fatto Però non mi si è applicato L'enchant Perché? Uh Cosa è successo? È un bug? No mi sa che ho sbagliato qualcosa È molto strano No Vabbè Ho perso l'enchant Eh vabbè Chi se ne frega Uh C'è qualcun altro E questo qui chi è? Allora non sappiamo come si chiama Quindi non sappiamo quanta vita ha Uh Guardate 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 Mangiamo 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 Così non rischiamo di essere uccisi Uh guardalo Questo forse è venuto a vedere la testa Forse è venuto a vedere la testa Uh C'è l'arco C'è l'arco C'è l'arco inchantato Mamma mia Dobbiamo stare attenti Dobbiamo evitare le sue frecce Perché C'è l'arco inchantato Quindi Cerchiamo di fare zig zag E ciao Uh è caduto giù È caduto giù Guardate 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 è caduto giù È un piccolino Però no è forte È forte C'ha 30 HP E quindi Dobbiamo stare attenti Cerchiamo di ricaricare le frecce Così possiamo ucciderlo Non riesco ad ucciderlo Perché è troppo forte Ok Andiamo di spada Andiamo di spada Uccidiamolo Mamma mia Mamma mia Se l'abbiamo distrutto L'abbiamo distrutto Perfetto 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 Allora Mi sono Dittito due secondi Perché il telefono mi si era acceso Quindi non capivo che cosa stesse succedendo Ma ok Abbiamo ucciso questo qua Perché l'abbiamo preso molto bene Con la cananda pesca E poi L'abbiamo bombardato Con la nostra spada sharpness Mamma mia Che figata Aveva un power 2 Un arco speciale Che tipo aumenta di enchant Se tipo fai delle uccisioni Secondo me Se non mi ricordo male E questo Qui È l'arco speciale Ok Abbiamo un po' di cose interessanti Qui Ok Possiamo farci una pbox O possiamo farci tipo una light apple Una light head Scusate Devo decidere che cosa fare Perché non abbiamo così tanta vita Ma mi sa che mi faccio la pbox Perché Voglio Non lo so Potremmo farci anche la golden head La golden head ci serve per il dead match Abbiamo fatto solo tre uccisioni Però no La partita sta andando veramente benissimo E No Giusto 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 Ci serve una mela Una mela E possiamo farci tutto Quel che vogliamo Mi sa che vi faccio Sì Mi faccio una pbox con la testa Vorrei mangiarla Ma me la faccio Mi faccio una bella pbox Solo che dobbiamo Cercare di prendere Legna Ci serve legna Ci serve Ci serve tanta 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 legna Questa spada in diamante Sharpness 2 È fortissima Mamma mia Quanto è forte Infatti ho spaccato Ho spaccato proprio tutto Prendiamoci questa legna Va E cerchiamo di Tenere gli occhi aperti Che qua vedo che c'è tanta gente In giro Infatti non ci siamo ancora spostati Sono Stanno tutti arrivando da me Pazzesco Il bordo è molto vicino Quindi dobbiamo anche allontanarci dal bordo Nel frattempo Scrivetemi nei commenti Se vi sta piaciendo questa bellissima partita La terza uccisione è stata una cosa pazzesca Tipo Quello l'abbiamo bombardato Oh cacchio Oh cacchio In chat stanno dicendo che tutti stanno correndo in full diamond Quindi abbiamo perso Non ce la faremo mai uccidere in full diamond Però noi ce la mettiamo tutta Ci impegneremo al massimo delle nostre possibilità Questa wc mi sta piacendo tantissimo Mi erano mancate tanto queste wc Scrivetemi nei commenti Se vi erano mancate anche a voi Perfetto Adesso possiamo farci un'altra bella pbox Dovremmo prenderci tipo le mele Speed 2 absorption 2 Che bella pozione Ok questa mi piace Questa pozione mi piace Questa pozione la possiamo bere Quando stiamo per combattere contro qualcuno E infatti faremo così Solo che mi servono delle mele Non le ho sdoppiate quelle di prima Perché non ho le ossa Quindi dobbiamo buttare giù un bel po' di alberi O semplicemente farci Con il ferro Le cesoie Solo che le cesoie Io il ferro non ce l'ho Perché l'ho buttato Non l'ho raccolto E niente Cercheremo di combattere Con una bella golden apple E combatteremo Con questa bella pozione Oh shi E teniamo qua Questa roba nell'inventario Perfetto Nell'inventario veloce Come secchio di lava Secchio di acqua Che ci possono servire E salvare la vita E beviamo tutto Mangiamo tutto Sulla prima persona che io troviamo Perché vorrei farmi Una quarta uccisione Ci trafacciamo Abbiamo un arco potenziato Che Uh è diventato power 3 Cosa? È diventato power 3 Wow Uh durante il deadmatch Diventa power 4 Ah fantastico Quindi non aumenta con le kills Aumenta con il tempo Il power Adesso abbiamo un arco power 3 No io qua Non devo più andare di spada Devo sicuramente cercare Di combattere solo con l'arco Con un power 2 Facciamo una strage pazzesca Adesso Io vedo che c'è tanta gente Con 35 32 di vita Ok sono tutti messi Molto molto bene Il deadmatch È ancora Fra 4 minuti Penso che non ci arriviamo Al deadmatch Quindi cerchiamo Di impegnarci adesso Per trovare qualcuno Ed ucciderlo Siamo finalmente Al deadmatch Ci siamo Ci siamo No aspettate Grace period Finisce fra tipo 6 secondi Ok 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 Allora Mangiamoci questa Ci beviamo questa E andiamo E andiamo subito Oddio Quello è full diamond Scappiamo subito Uh scappiamo subito Full diamond Ma stiamo scherzando Stiamo scherzando Quello è full diamond Che cosa riusciamo a fare Allora c'ho l'arco Che è diventato power 4 Quindi possiamo fare tanto danno Se ce la facciamo E questo Allora non so se gioca bene O fa apposta Solo che ho paura Di trovare l'altro 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 full diamond Che è vicino a me Tipo la mia sinistra Quindi cerchiamo di allontanare Questo e di combattere Uh oddio Lo sapevo Lo sapevo C'è un coso C'è un piccolino C'è un piccolino Andiamo Andiamo Cerchiamo di Cleanappare Cleanappiamo Perfetto Perfetto Allontaniamoci E cerchiamo di Cleanappare ancora Ok questo qua C'ha poca vita Ammazziamolo Sì Perfetto E adesso andiamo Da questo piccolino Strafed combos Cosa vuoi fare Cosa vuoi fare Cosa vuoi fare L'abbiamo beccato 26 HP Ciao 26 HP Prendiamolo ancora No Prendiamolo ancora L'abbiamo beccato E continuiamo così Uh beccato Non puoi scappare C'è un power 4 potentissimo E questo invece mi fa paura E scappiamo No Mi ha bloccato Mi ha bloccato No Mamma mia Mamma mia Mamma mia Ciao Oh ciao Oh ciao Uh aiuto Aiuto Scappiamo scappiamo Sì perfetto L'abbiamo un po' rallentato Ne è un credo proprio Che l'abbiamo rallentato Mamma mia Eh No non ce la faccio Non ce la faccio Oddio C'è Alex Con una spada potentissima Aiuto Alex ho per un Alex ho per un Non ce la faccio Non ce la faccio Questo è forte No Non ce l'ho fatta Abbiamo fatto 4 uccisioni Peccato Stavo uccidendo Un altro full iron E' arrivato questo A darmi fastidio E poi questo qua Comunque L'avrevo quasi ucciso Avete visto Con questo mi ero girato E l'avevo quasi ammazzato Secondo me questo qua Non è così tanto forte Invece questo è fortissimo Questo si era molto forte Infatti Metteva i blocchi sotto di sé Così io facevo fatica A beccarlo con l'arco Eh che cacchio Io stavo cercando Di uccidere il piccolino Questo Questo piccolino Stavo cercando di uccidere Siamo arrivati Tipo quinti Se non sbaglio Abbiamo fatto 4 uccisioni E' stata una partita Spettacolare Una UHC Pazzesca Spero che Vi sia piaciuto il video Se vorreste vedere altre belle UHC Raggiungiamo i 4.000 mi piace Iscrivetevi al canale Premendo il tasto lo Su iscriviti Per altri video di Minecraft E ci vediamo A un prossimo video Ciao ciao